Hanno preso il via a Bergamo le celebrazioni per l'anniversario dell'apparizione nel santuario della Dolorata in Borgo Santa Caterina che avranno il loro culmine martedì 18 agosto con la messa solenne delle 17.30 presieduta dal vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, seguita dalla tradizionale processione e servizio di Alessandro Invernici. Con la tradizionale esposizione del simulacro della Beata Vergine addolorata qui nel santuario di Borgo Santa Caterina, il santuario della città di Bergamo, si sono aperte le celebrazioni per il 400 centesimo anniversario dell'apparizione che ricorda il fatto prodigioso avvenuto il 18 agosto del lontano 1602 quando a mezzogiorno si fece buio su tutta la città e narrano le cronache, tre raggi di stella, illuminarono e rinvigorirono un antico affresco sulla parete di una vecchia edicola e lo rinvigorirono al punto tale che rimane intatto da allora e si venera nell'altare maggiore qui appunto all'interno del santuario della Beata Vergine addolorata. Sede, devozione ma soprattutto tante e tante grazie che qui ai piedi della Dolorata ogni anno vengono chieste da migliaia e migliaia di persone. Monsignor Paiocchi, rettore del santuario prevosto di Santa Caterina, la tradizione e le celebrazioni partono anche da questo momento così particolare e così tradizionale come quello della vestizione della Madonna e dell'uscita dalla nicchia e dell'esposizione del simulacro all'altare laterale nel santuario. È uno dei momenti che fanno del Borgo un po' un paese nel senso positivo, sì qualche volta dobbiamo registrare anche qualche aspetto poco piacevole nella vita del Borgo ma questi momenti legati all'apparizione della Madonna hanno tutti un loro significato anche perché vengono di lontano così come questo di estrarre dall'urna che la contiene durante tutto l'anno la statua della Madonna è attesa con una certa ansia dai devoti perché poi la Madonna è esposta e pronta per la venerazione da parte di tutti i fedeli. Il Borgo si accorge di questa esposizione attraverso il suono delle campane, festoso sia quella del santuario che quest'anno anche quella della parrocchia. Le campane sono sempre un bel richiamo, una bella compagnia, come tutto il mondo c'è chi le ama le campane, le ascolta volentieri e chi esprime una certa allergia, un'insufferenza ma penso proprio che soprattutto a quest'ora del pomeriggio non abbiamo proprio disturbato nessuno ma solo risvegliato quell'aria di festa che ci accompagnerà poi fino ai giorni clou del 18 di agosto e dell'apparizio. Cesare Mainardi, presidente per il secondo mandato a distanza di anni del Comitato per i festeggiamenti del Santuario della Beata Vergine Addolorata una tradizione quella di oggi che precede proprio di un giorno l'inizio del settenario. La Madonna che viene estratta dall'urna che la contiene tutto l'anno e viene poi deposta, viene esposta ai fedeli per la devozione. Sì, è la prima operazione della festa che è proprio quella di estrarre dalla nicchia la Madonna che è riposta per tutto l'anno nell'altare laterale del santuario. È un'operazione semplice ma nello stesso tempo che ha bisogno di molte attenzioni proprio per non creare danni irreparabili.